Quali sono le priorità per il rilancio di ILVA? La prima priorità sono infatti tre, la salute, la sicurezza, l'ambiente e la compliance, che sono tutti e tre parte della nostra visione sulla sostenibilità dell'azienda. Sono veramente le tre priorità che vogliamo lanciare dall'inizio, dal primo novembre, da 15 giorni fa. Come intendete raggiungerlo? Penso che sul piano ambientale abbiamo tante priorità che dobbiamo fare, della copertura, dei filtri per i polveri, eccetera, eccetera. Su questo abbiamo già comunicato. Sulla sicurezza è un lavoro che facciamo dentro tutti i nostri aziende, dentro il gruppo ArcelorMittal e vogliamo andare con formazione, con misuramento e veramente insieme con tutti gli operai. Dal punto di vista industriale avete dichiarato di voler tornare a 6 milioni di tonnellate nel più breve tempo possibile. Che intervi siete da? L'obiettivo è di fare questi 6 milioni da 2019. Siamo al lavoro per fare crescere la produzione, ma ancora una volta con la priorità sul piano ambientale. Perché il piano industriale è importantissimo, evidentemente, ma la priorità è veramente sull'ambiente perché non possiamo parlare di sviluppare industrialmente se non abbiamo sul piano ambientale tutti a posto.